Nell'ambito delle iniziative relative alla settimana mondiale del Glaucoma, l'Agenzia Mondiale per la Prevenzione della Cicità organizza un evento in programma per sabato 12 marzo presso il centro commerciale Le Terrazze proprio per spiegare l'importanza della prevenzione. Questa sarà particolarmente importante perché noi come agenzia abbiamo purtroppo avuto notizie a livello mondiale che la prevenzione di questo genere è diventata necessaria perché il Glaucoma è diventato purtroppo il primo dramma per far diventare cieche le persone. Quindi è molto importante che la gente sia messa sul chi vive e faccia prevenzione affinché venga preso in tempo anche perché purtroppo il Glaucoma essendo una malattia silente se uno non fa prevenzione accurata in età intorno ai 40-45 anni, 50 anni può diventare purtroppo causa di cecità. Ecco un intero pomeriggio proprio per spiegare l'importanza del fare prevenzione si partirà alle 14.30 fino alle 19. Qual è un po' il programma di questa giornata? Il programma noi avremo la nostra unità mobile fuori delle terrazze, ringrazio anche i due oculisti, la dottoressa Napoli e il dottor Buia che si alterneranno nel nostro piccolo ambulatorio dove noi faremo prevenzione a tutti diciamo persone oltre i 40 anni, noi saremo lì sperando di farne il più possibile. In realtà questo è un po' l'evento che anticiperà una vera e propria campagna di screening che coprirà tutta la provincia che partirà probabilmente già a partire da aprile. Sì effettivamente questo primo è un inizio proprio deutico, noi abbiamo in programma uno screening a livello provinciale dove la nostra unità mobile toftalmica raggiungerà le varie realtà provinciali per fare delle visite di prevenzione per gli over 40 sulla Glaucoma. Questo sarà per noi un grande sforzo ma siamo veramente convinti della necessità della prevenzione. Tra parentesi una visita molto rapida, indolore e sarà diciamo uno screening che aiuterà anche le realtà come l'Asle perché in caso ci sia qualche positività allora verranno poi invitate a visite più opportune. Grazie.